Ciao a tutte e a tutti, bentornati in un nuovo video, questo sarà un video haul e mi fa tipo stranissimo perché sto registrando per la prima volta dall'inizio del canale con una nuova reflex perché ebbene sì, ve l'avevo già accennato su Instagram che ho fatto questo mega acquisto quindi questo haul inizierà proprio col botto perché appunto il primo acquisto è lei, la 70D ho preso questa prima di tutto perché mi trovo bene con le canone in generale e la 70D nello specifico è una di quelle che ha il focus automatico quindi registrare i video sarà molto più semplice, non devo stare a settare il fuoco e tutte cose quindi vedete questa mette a fuoco qui, mette a fuoco qui e in una rapidità eccellente in più spero la qualità sia migliore, adesso io non lo so, mi vedo più o meno uguale staremo poi a vedere magari con i video sul trucco tra l'altro non ho ancora smanettato più di tanto con il bilanciamento del bianco ISO eccetera quindi spero sia settata più o meno bene detto questo iniziamo con gli acquisti naturalmente non mi sono fermata dall'ultimo video haul e quindi ho comprato un po' di cose inizio con un paio di scarpe però questa volta mi sono un po' sbilanciata dal mio solito stile di scarpe e ho preso questo paio che sono di questo marchio che si chiama Igo ed ha un marchio inglese, infatti appunto spediscono dall'Inghilterra hanno un sacco di scarpette carinissime e io vedevo sempre su Instagram i loro mocassini e mi sono innamorata anche perché li ho trovati a udito udite 9 sterline cioè raga 9 sterline quindi ho dovuto prenderle e sono questo paio qui, l'ho già indossato tantissime volte l'ho trovato taggato sul mio account 21button se volete ritrovare il link e appunto sono fatte in questo modo nere con questo fiore qua vedete come mette bene a fuoco adesso i dettagli anche questa placchettina dorata e a parte il fatto che sono comodissime sono troppo fighe io le amo da morire, penso ne prenderò anche altre di queste ah tra l'altro non vi ho detto che la Reflex l'ho presa su Amazon poi passiamo a una cosetta che ho preso da Pull&Bear era da un sacco di tempo che non andavo da Pull&Bear a comprare cose soprattutto non in saldo perché questo video haul ancora contiene un sacco di cose in saldo quindi meno male, almeno risparmio un pochino e ho preso questo pantaloncino io sono sempre stata tipo che non indosso i pantaloncini quest'anno voglio sperimentare un po' di più quindi me li sono presi, proprio sono andata ammirata per prendere un paio di pantaloncini e li ho pagati 13€ sono un pantaloncino davvero basico è nero, vi faccio vedere così non è assolutamente troppo corto anzi è della lunghezza giusta, mi piace anche di questo ho preso una 40 che serve una 44 è nero così ginsato, molto molto elastico cioè è proprio comodissimo poi vedrete che ne ho preso anche un altro di pantaloncino nero però ha fatto diverso poi passiamo a questi acquisti ragazzi raga, era un sacco di tempo che non passavo da sephora io che compro trucchi ormai è una rarità non scherzo perché negli ultimi video hall quanti trucchi avete visto? pochissimi, pochissimi solo vestiti e scarpe quindi dovevo andare ai ripari ed ho preso un sacco di cose che volevo prendere da un po' diciamo nella mia wishlist finalmente sono andata perché comprarle su internet queste cose non potevo perché dovevo vedere bene il negozio le colorazioni ed ho preso il fondotinta Lock It questo qui di Kat Von D che è troppo bello la li matcha a loro quanto costa però perché costa 34,50 io volevo tipo uccidermi però lo volevo troppo provare perché è uno dei fondotinta più coprenti che ci siano praticamente sul commercio infatti la ragazza mi vede mi fa a te non serve questo fondotinta ho detto sì però devo provare cioè dai e su ma che cosa stai pagate? no io ho preso la colorazione 43 che si chiama Light Warm siamo state un po' io l'avevo messa a provarle spero di aver preso quella giusta perché poi ancora non ho avuto occasione naturalmente di provarlo però d'inverno sicuramente poi lo proverò ed è questo qui insomma l'avrete già visto altre volte tra l'altro ci sono una miriade di colorazioni vi giuro tantissime anche proprio bianche, cadaveriche più di me poi ho preso anche il correttore perché mi hanno detto che è super coprente io sapete che ho la fissa per i correttori quindi non potevo non prendere anche il Lock It Concealer questo invece l'ho presa nel colore Light 5 Neutral eccolo qua questo qui invece viene 26€ che a paragone voi direte è meglio prendere il fondotinta alzo le mani perché ancora non l'ho provati vi faccio vedere il packaging ma è molto simile all'altro come vedete è tipo chiarissimo volevo prenderne uno appunto per fare i punti chiari non per correggere le discromie a cose poi ho preso sotto consiglio di Cindy la Sindina che ha consigliato tantissimo queste salviette le ho volute prendere anch'io e sono queste qui di Sephora all'acqua di cocco mi pare costano 5,99€ costano un pochino però le ho già provate e devo essere sincera mi piacciono sono 25 salviettine occhi e viso sono molto delicate in realtà non danno particolari problemi quindi per ora ve le consiglio comunque mi sono piaciute sono queste con tutti i cocchi disegnati e poi ultima cosa mi hanno regalato questa pochettina e all'interno ci ho messo tutte le maschere che mi sono comprata perché io vado pazza per queste maschere qua in tessuto di Sephora costano un pochino perché vengono mi pare 3,90 l'una però sono proprio belle e ne ho volute prendere alcune per le labbra per il contorno occhi e per il viso una per il contorno occhi già l'ho trovata infatti non ci sta ed era quella uniformante mi pare che dà luminosità insomma troppo bella davvero ha fatto un effetto bellissimo al contorno occhi e poi ho preso anche questa vedete sono fatte così quelle per il contorno questa qui è defaticante poi ne ho prese 3 per il viso che sono queste 3 che ancora non avevo provato c'è questa verde ha il tè verde appunto che dovrebbe essere quella mattificante sì infatti è opacizzante poi c'è questa che è purificante fa un tipo un effetto detox ed è questa qui di questo colore bellissimo e poi l'ultimo che ho preso è illuminante ed è questa rosa poi ne ho prese 2 per le labbra che in realtà sono la stessa che sono le maschere idratanti perché sono le labbra secchissime nonostante viva completamente col burro cacao però devo ancora capire la sta cosa comunque sono queste e basta da sempre l'abbiamo finito vi avevo detto nell'altro video haul che stavo aspettando alcuni pacchetti quindi vi faccio vedere anche questi perché mi sono arrivati uno è di Zara e mi è arrivata questa borsa che è diventata la mia borsa preferita del mondo se la volete ritrovare la trovate taggata sul mio account 21betons ed è fatta in questo modo nera classica con la tracollina ed è un sacco spaziosa vabbè all'interno ho già messo tutte le mie cosettine molto bella è molto comoda ho pagato una cavolata 20 euro da Zara poi ho preso sempre da Zara sull'applicazione questi pantaloni che volevo da un sacco li ho trovati scontati vi ricerco i prezzi sempre sul telefono perché qui sul cartellino ci sono scritti ma sono quelli originali questi infatti vedete costavano 40 euro infatti li ho pagati 10 cioè raga 10 euro sono di questi larghi così l'unica cosa è che vedete sono un sacco trasparenti e sul fondo hanno questa particolarità di avere tutti questi volant sono molto particolari molto belli e poi l'ultima cosa che ho preso da Zara è questo toppino questa magliettina che ho trovato e me la sono appresa proprio in due secondi perché veniva 10 euro l'ho pagata 2 euro raga 1,99 euro l'ho pagata ed è fatta in questo modo è fucsia ha questo volant davanti poi ha la manica a tre quarti ed è fatta a crop top ma è un sacco carina sul sito non c'è più provate a chiedere in negozio ma insomma non credo per 2 euro se la sono presa subito tutti poi vi faccio vedere le cose che ho preso da H&M e Asos come sempre i miei due siti del cuoricino comincio con Asos strano ovvero in tipo due anni che ordino le cose su Asos non mi è mai successo non mi hanno mandato una cosa nel pacco cioè una confezione da tre mutandine insomma classiche senza cuciture insomma le ho prese per esigenze non me le hanno mandate io ho già scritto adesso poi me le manderanno poi ho preso dei collant a rete li ho pagati 8,50 euro perché sono buoni e sono queste fatte così vedete a rete a maglia larga io ancora non le avevo vedo un sacco di look che mi piacciono con queste calze quindi dovevo prenderle poi ho preso sempre su Asos un vestito tutto nero che è della sezione tolle in realtà quindi per le ragazze alte però mi piaceva che fosse un po' più lungo perché sapete che io ho gli abitini corti ecco anche no l'ho pagato 9,50 euro e prima veniva 14 quindi insomma niente di che ho preso sempre una 44 ed è fatto in questo modo alle bretelline vedete così e poi cade tutto giù 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 ed è nero classico da mettere che ne so sotto qualcosa sotto una maglia ci sta sempre un tubino nero e questo mi piace un sacco perché forma bene la vita insomma è molto carino tornassi indietro forse avrei preso una taglia in meno perché così mi va bene però non è proprio aderentissimo lo preferivo un po' più piccolo però vabbè non mi andava adesso di mettermi a rimandare il pacco indietro aspettare il rimborso rifare l'ordine no qui ho detto vabbè ciao poi ho preso un reggiseno che ho adesso indosso che è di questi fatti così senza imbottitura io non sono mai stata una persona con tanto seno fortunatamente perché a me non piace ad esempio magari a voi si a me piace soltanto che sia bello sollevato comunque adesso naturalmente sono diventata ancora più piccole dopo che mi sono dimagrita e quindi questo mi va più che bene cioè proprio è giusto per tenerle lì a posto e basta e poi ho preso un vestito che è praticamente una t-shirt oversize con i lacetti laterali veniva 34 euro cioè non so il pazzo che l'abbia pagato 34 euro ma io l'ho pagato 20 quindi già si poteva fare sempre nero non sperate in altri colori ed è appunto così una t-shirt tutta nera la particolarità è qui sul fianco che ha questi lacetti molto bella molto comoda molto fresca insomma e tutto quanto e poi passiamo all'ultimo ma non è per importanza H&M anche di questo vi ritrovo i prezzi sull'applicazione ed ho preso un paio di shorts che prima venivano 15 li ho pagati 7 e sono quelli che vi dicevo prima sempre neri però questi sono molto ma molto più elastici ed hanno un tessuto molto formante non so bene insomma e appunto essendo tutto elastico invece quell'altro di jeans questi sono molto più attillati ecco poi ho preso questa camicetta io sto andando in fissa con questo tipo di camice e l'ho pagata 12 euro invece di 20 è una camicia di quelle oversize quindi è abbastanza grandina da mettere che ne so con jeans una cintura in vita è bellissima in questo modo di questo celestino così è davvero un sacco carina ed è anche molto fresca in realtà poi ho preso un paio di pantaloni bianchi non so mi sono fissata che volevo un paio di pantaloni bianchi per qualsiasi buon evenienza white party futuro non ho idea di cosa mi stava sparfallando il cervello in quel momento però ne avevo provati vari nei negozi erano tutti trasparenti perché è un grosso difetto che hanno i pantaloni bianchi no più che trasparenti comunque si vedeva sempre l'alone della mutanda avevo visto sentito anche varie persone che mi hanno consigliato questi che mi hanno detto che non avevano questo problema della trasparenza infatti l'ho provato non sembra che diano particolari problemi normalissimo senza strappi o nulla li ho provati mi hanno bene anche di questi ho preso sempre una 44 ultima cosa che ho preso da H&M è questa tutina che io ho visto in negozi tantissime volte però spendere 50 euro non mi andava l'ho vista poi scontata a 30 ho detto va bene si la posso anche prendere ed è appunto una tuta nera però tutta intera fatta con un volano qua all'altezza del petto questa andrebbe vista indossata perché così proprio non si può guardare cioè non si capisce però cercherò di farvela vedere vedete le bretelline qua ha il volan sopra compreso anche di manica perché qua questa è una manica e poi passato il volan della parte superiore sotto ha appunto i pantaloni che vanno tutti giù così neri e arriva più o meno alla caviglia è un sacco elegante come capo e niente quindi questo era tutto quello che dovevo farvi vedere come vi dico sempre al fine di ogni haul ripetiamolo insieme sicuramente non sarà l'ultimo però no davvero devo darmi una bella calmata però no vabbè comunque dai in questo video ci sono cose abbastanza utili quindi dai mi sento abbastanza soddisfatta non mi sento tanto tanto in colpa questa volta comunque spero come sempre vi siano piaciute le cose che vi ho fatto vedere vi ripeto se c'è qualche capo che vi è piaciuto particolarmente lo trovate taggato nel mio account 21 buttons che trovate sempre qua sotto io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video vi aspetto ciao ciao ciao